A drizzarla ci siamo riusciti, tre pali, tante occasioni, penso che è stato premiato questo nostro aspetto, grande personalità, grande carattere, siamo stati premiati, un'altra finale penso che è veramente qualcosa di fantastico, è percorso anche quest'anno bellissimo, e ripeto, vedere giocare i ragazzi in questo modo, questa personalità è davvero qualcosa di impagabile, sapevo che tutti questa partita l'avrebbero preparata nel migliore dei modi e così è stato, e sono felice. Salve, complimenti, devo dire che avete giocato tante belle partite in Coppa, il secondo tempo di oggi forse è la frontiera più scintillante di sempre, anche per il contesto, per il risultato, non so se al terzo palo però questa scintilla in realtà la volevamo andare da un'altra parte, nel senso che siete stati anche tanto sfortunati, invece credo che il carattere vi abbia portato a continuare ad attaccare come se non ci fosse stata questa sfortuna, è stato qualcosa di positivo anche questo. Credo che la mentalità che abbiamo acquisito si raggiunga tutti insieme, attraverso il lavoro, attraverso il credere in quello che si propone, però la personalità poi nel momento in cui si entra in campo quella bisogna tirarla fuori, ogni singolo calciatore, ogni singola prestazione, per poi a livello collettivo tirar fuori queste prestazioni, quindi è un mix, è un mix di quello che abbiamo sempre detto, l'unico principio che oggi non dovevamo abbandonare era quello di continuare a fare quello che ci ha permesso di arrivare in questa semifinale, giocare, giocare, aggredire, non permettere all'avversario di prendere in mano la partita, cosa che abbiamo fatto male nei primi venti minuti, però dopo il loro gol siamo venuti fuori, quindi questo ci ha permesso ancora una volta di arrivare in finale. Ripeto, la personalità che hanno tirato fuori i ragazzi oggi è stata strepitosa, tutto merito loro, per come l'hanno preparata, per l'importanza della partita, per come si sono presentati e ripeto lo sapevo, li avevo visti negli occhi carichi, vogliosi e tutti hanno fatto prestazione incredibile e così si riesce a ottenere risultati e quello che abbiamo ottenuto noi oggi, doppia finale europea in due anni, penso che sia un traguardo fantastico. Ciao Vincenzo, ti volevo chiedere proprio questo, perché comunque intanto è guagliata stasera una grande Fiorentina, quella che tra il 60 e il 62 fece le finali Coppa e la Coppa, la prima la vinse contro i Ranger Glesworth, ci sono gli eroi dell'Ibrox Park e la seconda la persero. Quindi ti chiedo se, considerando questo percorso di tre anni, lo so che non è finito, ora c'è Atene, però comunque un bilancio si può fare, questi tre anni quanta soddisfazione ti hanno, ma soprattutto se senti comunque già adesso di aver scritto con i tuoi ragazzi un pezzetto di storia recente della Fiorentina, perché è guagliare, quella squadra là non è una roba a poco. Grazie. Già il fatto di rimanere nella storia è un traguardo fantastico, quindi ci saremo anche noi sui libri di storia e rimanendo in questa competizione il primo pensiero è quello che in due anni siamo riusciti davvero a fare qualcosa di straordinario. Partendo anche dalle difficoltà iniziali dell'anno scorso, Basak Sehir 3-0, riga 1-1 in casa, 30 tiri e non siamo riusciti a vincere, brutta prestazione in Turchia e da lì credo che mi ero permesso anche di usare parole forti, ma da quel momento lì in Europa siamo partiti. Sì, abbiamo perso a Praga, ma secondo me il percorso era stato fantastico, adesso ci presentiamo addirittura da imbattuti. A parte il primo turno con il Rapid, la partita d'andata, ma poi abbiamo fatto praticamente vittorie e pareggi e arriviamo con grande autostima, con grande entusiasmo e ripeto, rimanere ed essere ricordati per sempre penso che sia un traguardo bellissimo. Salve mister, complimenti. Domani sera con che stato d'animo osserva Olimpia, Costa, Stoneville, con i greci avanti due due gol? Si augura abbiano la meglio? Ma il primo pensiero è che ci saranno difficoltà da tutte le parti, nel senso se dovesse arrivare l'Olimpia, ci ritroviamo una squadra di casa, anche se non gioca nel proprio stadio, però nella loro città ci sarà un qualcosa a dir poco, una bolge a dire poco. L'altra è una delle 4-5 squadre in questo momento in Premier, quindi tutte squadre forti, temibili. L'Olimpia costariva da alcuni turni in conference, dove ha fatto una caterva di gol, prestazioni straordinarie, in campionato anche da quando è arrivato il nuovo allenatore, mentre l'Aston Villa è forte, è forte. Squadra di Premier composta da tantissimi giocatori di qualità, forti, forti. guarderemo la partita, aspetteremo il nostro avversario, intanto mettiamoli da parte questa finale e poi la prepareremo per bene. Adesso c'è da fare uno sforzo anche in campionato, abbiamo quattro partite, vogliamo mettere ancora punti, cercare di risalire. Ci proveremo e faremo il possibile. Mister Salve, complimenti. Le chiedo due suoi pensieri. Il primo, che cosa ha pensato dopo tre pali, perché la situazione è stata paradossale anche stasera, si è creduto di non farcelo, quantomeno di dover passare dai supplementari. E poi c'è comunque nello spogliatoio un pensiero andato a Giobarone, perché questa è una finale eccellente che immagino vogliate dedicare a lui. Grazie. Ma noi, in qualsiasi partita andiamo a preparare, il ricordo è sempre del nostro direttore, alla famiglia del direttore che era oggi presente, alla moglie, ai figli. Quindi non c'è neanche bisogno di dirlo, è dedicata a loro, a lui, che sicuramente ci starà ammirando e guardando. Sono convinto che questo stimolo a noi in determinate situazioni ci dia qualcosa e penso che oggi abbia inciso. Sinceramente, nel momento in cui Lucas si è presentato sul dischetto, siccome quest'anno la maledizione sia per i pali che per i rigori, ho detto, vuoi vedere che ci siamo trascinati anche quest'altro problema? Invece ho visto Nico con la palla, mi sono girato per bere, l'ho rivista in mano a Beltran, ho detto, qui c'è qualcuno che non se la sente di battere sul rigore. Invece Lucas è arrivato determinato, bravo perché quella palla pesava un bel po' di chili e complimenti a lui per la personalità. Ripeto, oggi tutti sono stati davvero bravi. ma non per togliere meriti allo staff, all'allenatore. Ripeto, qualcosa si crea insieme, ma nel momento in cui entri in campo in queste partite ogni singolo calciatore che è lì deve tirar fuori il meglio. Il terzino grande prestazione, l'esterno grande prestazione, la punta deve saltarsi, i centrocampisti non devono sbagliare nulla, i difensori devono stare attenti. Tutte le prestazioni individuali chiaramente poi vengono a creare prestazioni collettive come quelle che avete visto oggi, quindi bravissimi loro. Mister, buonasera. Le faccio la prima domanda su Buonaventura, su come sta e se lo immagina ad Atene, ma per capire i tempi dei suoi di recupero. E l'altra, se ho avuto la sensazione, vedendo la Fiorentina stasera, che ci fosse veramente tutto dentro. Cioè Terracciano che fa un primo tempo non eccezionale e poi si riscatta con una parata straordinaria. Zola che ha avuto dei problemi personali e che sia la grande andata che nel ritorno trova il riscatto mettendoci veramente tutto se stesso. Cioè ho trovato in questa Fiorentina il primo e nel secondo tempo per la trasformazione che lei non se la prenderà, ma molto in merito suo e del suo staff. Cioè del fatto che siete riusciti a dare un'identità e un'anima a questa squadra che io stasera l'ho vista proprio dall'inizio alla fine. All'inizio non tantissimo, però ho visto ecco l'anima della Fiorentina. Eccola lì. Per quanto riguarda Jack, ha provato ieri, era fiducioso, ma stamattina non se l'è sentita. È inutile rischiare. Manca ancora un bel po' e aggiungendo questa finale è stato meglio così. Non rischiarlo e averlo a posto nei prossimi giorni. Quindi la decisione è arrivata stamattina. Per il resto, l'ho detto prima, avevamo una grande voglia di aggiungere un altro pezzo di storia al nostro percorso, alla nostra annata e ci siamo riusciti. Io penso che analizzando questa partita i primi 20 minuti abbiamo veramente avuto non dico timore, ma troppo rispetto. Pensavamo di poter gestire in maniera poco aggressiva invece nel momento in cui inizia ad aggredire, alzare i ritmi, a palleggiare, a non far respirare gli avversari, questa Fiorentina ormai ha nel DNA questo tipo di lavoro. L'abbiamo fatto verso la fine del primo tempo, l'abbiamo riproposto nel secondo e ci ha permesso di raggiungere questa finale. Ripeto, la mentalità si costruisce al Viola Park, si costruisce tutti insieme, si costruisce attraverso il lavoro, attraverso credere in quello che si fa, ma le prestazioni individuali di oggi è merito dei ragazzi per come tutti insieme hanno preparato questa partita. Mister, sì, complimenti. La strategia di Bruges è stata una sorpresa stasera? All'inizio sì, perché vincevano tutti i duelli, riuscivano a trovare smarcati sempre i centrocampisti, non riuscivamo mai a ripartire, mai ad accorciare sulla gente smarcata tra le linee. Devo dire che, oltre a questo, anche la spinta del pubblico ha dato un ulteriore stimolo al Bruges, che è una squadra forte, una squadra con qualità, giocatori molto bravi. poi, secondo me, siamo venuti fuori noi, reagendo allo svantaggio e prendendo in mano la partita e riuscendo a prendere metri, a mettere paura, perché è la prima occasione di Gonzales, il palo, la traversa di Kwame, secondo me, lì ha inciso un po' sotto l'aspetto psicologico dei nostri avversari e da lì siamo venuti fuori noi. Grazie.